musica abbiamo visto che ci sono i capitani in rosa non solo, anche il difficile ruolo di pilota è rappresentato in questa 24 ore dall'alto livello agonistico ci sono due delle ragazze che hanno deciso di correre una di queste chiaramente arriva dall'Oterocchie della Francia è Cati Brifa Cati Brifa del team Alfa Romeo perché Alfa Romeo? perché? perché il team con cui io ruolo lavorano per Alfa Romeo e hanno creato un titolo perché sono venuti per loro condizioni mobili e in realtà hanno proposto di andare a metterci e quindi il team che si spiega nella Francia perché ci sono lavorano e hanno un po' controlli di più come si va? come si va? come si va? come si va? e ho fatto da l'industria in popolare ma sono è credo che che allora ci sono Ma cosa vuoi fare le kartingati della Vitex? Sì, sì. C'è stato. In i 390 e 2000. Poi, ho potato il kartingati in 10 anni. Ho passato un po' in una carina. Il kartingati sempre con un piacere, con un'immagrazione, e il massacri che dal sangro non cambiata. Quanti anni hai avuto il kartingati di Vance? C'è sempre più di due, d'abord il sprint, c'è un po' di sprint e un po' di duranza A partire le anni 2005, le prime 24 ore del mondo Oh, vedi, sono davvero 5, sono più 24 ore Le Manna, lei ha già iniziato nel karting, ha già trovato la gara più antica del mondo a Parma e poi ha girato anche a Lonato, la vecchia configurazione Poi provo a passare le macchine senza mai abbandonare il karting Endman Grazie Capi, tu ne puoi fare le mio barbino, tu ne puoi fare le mio barbino Oh, sì, oh, sì On a pu fare una bella remonti quando ho avuto il buon kart, il buon momento De la 32e classe, on a perduto la quinta classe, on era un po' di quinta A peu près 58 minuti a plein di rullaggio Come tutto il mondo, il pourra remontare, remontare, remontare Ora, sono più la gara di l'ombre, non possiamo remontare la bella Per ancora tre ore del boulage Vedi, stai dicendo che loro, l'obiettivo della squadra rimontare Sono stati molto interessanti, ma sicuramente sono dei piloti di putti Abbiamo sentito il turricolo Buon kati, grazie e buoni ui per la complessa Grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti